ciao a tutti buongiorno come state spero tutto bene oggi volevo proporvi un monza ASMR con la luna piena e miliardi di lucciole che luccicano la notte più buia quindi vi e auguro buong relax buongiorno 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 Grazie per l'attenzione Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.